Tutti in una notte per l'ottavo posto in classifica, in Napoli a Firenze va la ricerca di tre punti cruciali contro una bestia nera del campionato italiano dove gli azzurri spesso e volentieri hanno perso punti importanti. La sfida di questa sera ovviamente ha un sapore diverso ed è uno scontro diretto per l'ultimo posto nell'Europa minore. In Napoli non deve steccare l'ultima trasferta stagionale con lo scudetto sul petto e deve cercare di leggarare una piccola gioia ai propri tifosi. Sarà una partita incentrata su due protagonisti di questa squadra, da un lato Nico Gonzalez autore i 10 gol in 26 partite, dall'altro Kvara il calciatore su cui Napoli punta la ricostruzione nonostante un rinnovo da firmare le tanti voci di mercato. Senso si meno in campo il calciatore Giorgiano dovrà farsi carico del peso della squadra in questa partita. Calzone è pronto a lanciare il raspatore al centro dell'attacco dal primo minuto e si aspetta una prova convincente dalla difesa, finora l'anello debole della squadra. Il tecnico degli azzurri, oltre confermatissimo Meret tra i pali, schiererà la classica difesa a quattro con Olivero e Di Lorenzo come terzini e al centro la coppia Guayesos-Rachmani. A centrocampo Cagliuste-Lobot-Ganghissà, in avanti il tridente composto da Kvara e Politano a supporto di Raspadori. Italiano scendereà in campo con i 4-2-3-1 con Terracciano in porta, in difesa Dode-Biraghi come terzini, al centro Milenkovic-Ranieri. In mediana Bonaventure-Artur con la linea di tre quarti composta a Gonzales-Beltran e Kwame a supporto e l'unica punta a Belotti.